Ciao a tutti, io sono Rihanna e benvenuti in questa nuova rubrica che si chiama My Booklist, una rubrica dove vi consiglio libri che personalmente mi sono piaciuti molto. Oggi vi consiglio questo libro, che ho trovato fra le stelle di Francesca Zappia, un libro molto easy da leggere, tranquillo, leggero, che va via veramente in pochissimi giorni, io ricordo di averlo letto molto velocemente. È un libro che ha come target un teen, quindi 13-15 anni. Questo libro parla di due ragazzi, entrambi molto timidi. La nostra protagonista è una ragazza che si chiama Elisa, che è una ragazza molto chiusa, molto timida, va molto spesso in ansia quando si tratta di parlare con altre persone, che però è riuscita a costruirsi online il suo mondo. Lei infatti è l'autrice di una delle graphic novel più famose del web, ha un seguito assurdo, e grazie a questo piccolo mondo che si è costruita riesce a fare amicizia con molte persone online ed è la regina di questo suo mondo. L'altro ragazzo che invece incontrerà a scuola è un tipo molto timido, che ha difficoltà ad aprirsi con gli altri, ma che però è lo scrittore della fanfiction più famosa basata proprio sulla graphic novel della nostra protagonista. La protagonista sa chi è lui, ma lui non sa chi è lei. Quindi, insomma, potete immaginare in che direzioni andrà la trama. Vi consiglio questo libro perché specialmente per un pubblico team riesce ad affrontare temi come le malattie mentali, l'ansia sociale, in modo molto semplice e molto facile da capire. Quindi se non avete mai avuto rapporti con questo tipo di temi, ve lo introduce questo mondo in modo molto leggero. Una cosa molto importante che non vi ho detto di questo libro è che dentro, e che lo rende anche molto più scorrevole, ci sono delle immagini tratte dalla graphic novel che scrive la protagonista, e in più ci sono anche delle parti scritte come se fossero chat di blog e siti appunto sul fandom e sul mondo creato proprio dalla protagonista. Quindi questo rende sicuramente molto più piacevole la lettura, è anche molto più facile da leggere, più divertente. Se vi piacciono libri alla John Green, questo libro farà sicuramente a caso vostro. Se vi è piaciuto questo libro, se sono riuscita a incuriosirvi, se l'avete già letto, fatemelo sapere nei commenti. Fatemi sapere anche se volete che recensisca qualche altro libro, se volete che legga qualche libro che vi è piaciuto, che non vi è piaciuto, così ne possiamo parlare insieme. Io non vedo l'ora di leggere nei commenti tutto quello che avete da dirmi, quindi vi aspetto qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!